Entro in un negozio, vedo un maglioncino molto carino che mi piace, vado a pagare, la carta non funziona. Vado a controllare il mio saldo, un euro e trentatré. Buono, buono. Questa è la storia. Un euro e trentatré. È una storia vera. È una storia vera. Perché con la televisione, il cinema e il teatro si fanno un sacco di soldi. Se la vita ti affanna, dillo a zianna. Tortellini con la panna, dillo a zianna. Senti, ma che ha la mamma, dillo a zianna. Rino Gaetano è la sua gianna, dillo a zianna. 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 Dillo a zianna, va. Dillo a zianna, un altro podcast semiserio. Giovani benvenuti o bentornati a Dillo a zianna, un altro podcast semiserio. Chi è zianna? Sono io, Riccardo zianna. Continuate a iscrivervi al canale YouTube. Continuate a seguire tutte le pagine social che adesso compariranno qui. Non solo le mie, ma anche quelle della mia ospite di oggi. Già sapete chi è perché, come sempre, c'è una miniatura che ci riprende in una fotografia che la mia ospite ha molto apprezzato. La scelta della Polaroid. Lei è una grande attrice, ora parleremo di tutta la sua vita, quindi questo podcast durerà 6,8 ore. Alessandra Masi, benvenuta. Buonasera, buonasera. Grazie Riccardo. Io adoro fare radio, ma non l'ho mai fatta. Cioè nel senso, no, mai, non mi è mai successo. Mi è capitato di fare radio solo per finta. Cioè, interpretavo la parte di una persona che faceva radio. E mi divertivo tantissimo, quindi adesso... Devi fare radio, è una grande esperienza. Secondo me, tra l'altro, essendo tu appunto un'attrice, è qualcosa che potrebbe assolutamente essere nei tuoi cordi. Perché no? Vieni a fare un programma a Radio Caus Italy. Ah, che bello, subito. Perfetto, segno allora. Capito lì, segnato, perfetto. Tra l'altro, dico Radio Caus Italy perché siamo a Radio Caus Italy, via Eugenio Torelli 17, la via più comoda del mondo da dire, ma è un mondo fantastico. Tu l'hai visto, montare tutto questo è eccezionale. Ringraziamo subito Federico, Eliseo, pure Alessio. Alessio ci ha messo in contatto. È vero, grazie Alessio. Bisognerà ringraziare anche Alessio. Non so se tu lo vuoi ringraziare, io sì, perché adesso il problema è tutto tuo, no? Perché l'intervista è per te. Allora, una cosa che secondo me magari ti sarà capitata o potrebbe non esserti capitata, le persone a te vicine, quindi i tuoi amici, i tuoi conoscenti, anche i tuoi parenti, che non fanno il tuo mestiere, ti è mai capitato che ti dicessero, eh Alessia, la vita tua? Te l'hanno mai detto questa? Sempre, continuamente. Allora, la cosa bella di questa domanda è che rispondono tutti così. Cioè, tutti i miei ospiti dicono secca, tutti i miei amici mi dicono questa cosa. La tua vita com'è però? La mia vita è così, esattamente così. No, cioè no, nel senso, tutti mi dicono questa frase qui, eh, ma Alessandra, vabbè, ma tanto Alessandra, uff, figurati. Però in realtà è un pochino, pochino più complicato di così, nel senso che è una scelta, è una scelta difficile, però comunque sposiamo, abbiamo sposato una cosa che ci piace, quindi nel senso non riuscirei a pensare altrimenti, ecco. Quindi, ancora adesso, ecco, che ho quasi 31 anni, quindi tanti ormai sono... Ormai l'esame avanza, ora io fortunatamente sono più giovane. E poi devo dire che c'è una parte di cazzeggio sano, passatemi il termine, quindi probabilmente questa cosa si allontana un po' dai lavori canonici. Sì, sì, sì. Non hai l'orario d'ufficio, diciamo così. E questa per me è una cosa sacrosanta, nel senso, cioè non riuscirei. Non riuscirei, non riuscirei. Già ora qui, devo stare seduta, quanto tempo? Eh beh, 6-7 ore. 6-7 ore, già mi sento un po', vedi, un po', il mio corpo vuole. Se ti vuoi fare una passeggiata, quando ti baci, cioè il studio è un po' circoscritto, però lo puoi fare. Magari più tardi, vediamo. In tutta, in questa vita così molto frenetica, perché poi è vero, la vita di un attore, di un'attrice è estremamente frenetica, di noi lavoratori nel mondo dello spettacolo, è estremamente frenetica. Cioè, ci sono stati dei momenti nella tua vita, anzi, te ne chiedo uno, un momento più di luce e un momento un po' più di ombra nella tua vita? Allora, ce ne sono stati in realtà vari. Sì, immagino. L'ultimo anno è stato un anno in cui sono stata un po' più ferma. Ok. E questa cosa ti porta spesso un po' a spaventarti, a mettere tutto in dubbio, però, dato che è già capitato, è già successo, diciamo che ogni volta sei un pochino più sicuro e, insomma, ti dici, ok, respira. Succede, è normale. Dedicati a te, devi volerti bene. Ah, tu fai l'auto-coaching. Sì, sì, è per forza. Alessandra, devi volerti bene. Assolutamente, perché può diventare frustrante, ok? Magari vedi che non succede niente, non succede niente, però poi qualcosa succede. Se non succede, te lo inventi. Eh sì, è vero. Quindi, per fortuna, ecco, non avendo una sicurezza, dobbiamo per forza inventarci qualcosa. Necessariamente. E quindi, insomma, poi... Guarda, sono talmente d'accordo con te che... pure io mi sono voluto inventare sta cosa. Eh, capito? Cioè, ma è una cosa bellissima, questo altarino. Ti piace? Sì, molto. È qualcosa di sacro, no? Sì, assolutamente. Infatti, si può anche genuflettere e fare un pensiero personale a questa situazione, però ho voluto inserire tutta una serie di elementi anche personali, miei... Della tua infanzia? No. Che della mia infanzia? Cioè, non ho capito, perché uno a 30 anni non può giocare ai Pokémon, scusami. No, sì, però... No, no, tu stai insinuando questo. A 30 anni potete giocare ai Pokémon, dovete farlo. Giocate ai Pokémon al posto di drogarvi, eh? Assolutamente, questo sì, è vero. Anzi, se The Pokémon Company poi ci vuole dare, eh, una monetina per questa cosa, noi siamo felici. Come funziona però questa chiacchierata, a parte il grande cazzeggio che ormai è notato? Io, lo sapete, se non lo sapete ve lo ricordo, chiedo 10 elementi. Prima o poi dovrò trovare una parola, perché elementi non mi piace, dei pezzi di vita proprio. Li chiedo ai miei ospiti, loro ne scelgono 5 e da là io snodo tutta la nostra chiacchierata. Partiamo da una poetessa. Lei è Chandra Lidia Cambiani. Una poetessa incredibile. Io sono molto fan della poesia. Non sono un grande lettore. Anch'io. Però sono fan della poesia e quindi quando tu me l'hai segnalata ho dovuto leggere alcune delle sue poesie, tra l'altro tu me l'avevi segnalata proprio una nello specifico. Lei è stata definita grande schiva poetessa da Viviane Lamarck, francese. C'è qualcosa della sua poetica che influenza un po' la tua quotidianità? Beh, sicuramente io ho riflettuto, anche quando ti ho dato il suo nome ho riflettuto, ho pensato che cosa ti piace di lei, no? È qualcosa di inspiegabile a parole ma è più viscerale. Cioè mi arriva qualcosa emotivamente dalle sue parole proprio. Quindi sicuramente tocca delle corde, ecco, cioè tocca delle corde rispetto al quale mi sento molto più sensibile, che riguardano l'aspetto di una femminilità intima, di un rapporto verso l'amore. Sicuramente lei, insomma, parla molto d'amore. Sì, il tema dell'amore è molto centrale per lei. Esatto. E quindi in questo senso mi sono sentita un po' complementare alle sue poesie. Ti ci ritrovi anche in maniera inconsapevole forse, no? Sì, sì, sì. Per questo facevo fatica a pensare proprio, sai, una cosa che mi piace di lei. Cioè è una cosa che sento. Sì, sì, sì. E faccio fatica a spiegare. Ok, no, vabbè, il bello della poesia forse è proprio questo. E passando proprio di palo in frasca, come capo d'abbigliamento hai scelto il crop top. Sì, il crop top perché penso che mi rappresenti perché mi piace la mia vita. Brava, è giù, ah, la tua vita. La mia vita e la mia vita. Ah, entrambe le tue vite. Sì, sì, cioè penso che mi piacciono i miei fianchi e quindi... Ok, col crop top si ci mostra. Ognuno di noi, sai, ha qualcosa che apprezza di più di se stesso, apprezza un po' di meno. E io penso che il crop top, cioè, mi stia proprio bene. C'è niente da fare. Cioè, quando metto il crop top dico, ah. Non l'ho voluto indossare perché saremmo entrati in competizione. Eh, immagino. Dovresti vedermi col crop top, incredibile. Mi fermano proprio per strada, ma le forze dell'ordine, mi scusi che stai facendo questo. Certo. Invece no, il crop top per chi non sapesse che cos'è appunto, è un indumento, diciamo... È questo. Molto attilato stretto, esatto, è quello. Poi ce ne sono mille modelli, io ho cercato questa foto. Però utilizziamolo in maniera anche un po' metaforica, tra virgolette. Perché, secondo me, specialmente negli ultimi anni, viene visto anche come capo d'abbigliamento un po' rivoluzionario. Perché si è aperto anche al genere maschile molto di più. Certo, certo. È stato molto sdoganato, grazie a Dio. Ci sono stati dei momenti nella tua vita, nel tuo percorso professionale, in cui hai detto oggi mi voglio ribellare a qualcosa, oggi voglio dare una sterzata in questo senso. E quindi il crop top ha immagini di questa piccola ribellione. Guarda, sicuramente lavorativamente forse non mi viene molto in mente. Però per come sono, diciamo che credo di ribellarmi abbastanza ogni giorno. Nel senso che se io ho voglia di un cappuccino e voglio scendere così, come sto, con la molletta in testa, cioè vado. E penso che già questo, paradossalmente, sia abbastanza rivoluzionario. Assolutamente, visti i tempi assolutamente. Sì, comunque siamo un po' in una situazione dove l'apparenza, lo sappiamo, conta, quindi devi stare sempre un po', a Napoli si dice, apparecchiata, no? Apparecchiata. Invece in realtà su questo mi sento abbastanza rivoluzionaria nel mio piccolo. Quindi la spontaneità come rivoluzione. Sì, poi per carità, magari mi innamoro di un paio di stivali tacco 15 zebrati e mi vedo bella, anche se è una roba un po' eccessiva, però che cos'è eccessivo? No, infatti, poi veramente ormai, secondo me, è raro trovare una cosa proprio eccessiva che dici, sei fuori luogo. Cioè, alla fine basta uno che, non è una frase che può sembrare banale, basta che tu stai bene con la salopette, io magari sto bene col cropto. State bene con quello con cui volete stare bene. Già vi abbiamo dato due grandi insegnamenti, pensate che maestri di vita. Hai sentito il suono di questa campanella? Sì, l'ho sentito. Questa cosa è eccezionale, guarda, perché le campanelle, ovviamente il suono viene messo in post da Elisa, però mi piace dire questa idiozia come se ci fosse veramente. E per ora nessuno mi ha risposto no, tutti fanno questa scena. Comunque, questa campanella annuncia una domanda interessante, secondo me. Esiste una domanda, perdonami la ripetizione, che non sopporti che ti venga fatta. Sia durante un'intervista, oppure magari da qualcuno che conosci meno. Ti fanno quella domanda? Non lo sopporti. Beh, penso alla domanda di tutti gli attori. Cioè, che cosa stai facendo adesso? Ok, quella non ti piace. No, no, ma mi sono trovata a fare altre interviste poco tempo fa, ed ero con due colleghe, un'intervista a tre. Ah, cioè loro ti hanno messo in mezzo? No, no, eravamo tre attrici e ci hanno intervistato, diciamo. Mi sono trovata d'accordo con loro, nel senso che questa domanda, che cosa stai facendo adesso, è proprio una... Non lo so, è una cosa proprio scomoda. Cioè, è una cosa un po' poco delicata. Poco delicata? Sì, credo di sì. In ambiente attoriale, ovviamente. Sì, sì, nel nostro... Cioè, cosa stai facendo lavorativamente, sai, un po'. Magari non è un modo in realtà per... Sì, assolutamente, può essere. Non lo so, perché è interessante. No, 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 però c'è talmente... Ci sono talmente tante persone che ti chiedono questa cosa, che tu dopo l'avete il trentasesima volta, dici... Basta, basta. Che cosa fai nella vita? Adesso sto rispondendo alle vostre domande, capito? È la mia grande occupazione di questo momento, è rispondere a questa domanda. Però, cioè, è una cosa comunque leggera, non è un grande, insomma, problema. Però come prima cosa ti è venuta in mente questa, quindi non chiedete ad Alessandra che cosa sta facendo. In generale, proprio nella sua giornata, non glielo chiedete. Andiamo invece avanti con le immagini che mi hai segnalato. Come libro hai scelto la trilogia della città di K. di Agota Christophe. Leggendo più o meno approfonditamente questo libro, i protagonisti ovviamente sono due gemelli, che in alcuni momenti si assomigliano, in altri momenti invece sono completamente differenti. Poi sul discorso gemelli c'è tutta anche una, secondo me, retrospettiva molto interessante, anche legata al segno zodiacale. Cosa ruberesti a questi personaggi e cosa invece scanseresti? No, però adesso non scanserei. Nulla? No, nel senso che c'è una... È molto crudo. Sì. È molto crudo anche nel linguaggio. E quindi sicuramente ruberei proprio questo. Cioè, mi piacciono anche i linguaggi, ovviamente artisticamente c'è a teatro, magari al cinema, a teatro soprattutto, questi linguaggi semplici, diretti, crudi, che comunque ti danno anche un po' uno schiaffo, no? Sì. Cioè, l'autrice non ha voluto... Dare per forza delle... Ci troviamo qui a questo giorno. Esatto, esatto. E quindi questo misticismo, tra molte virgolette, ti piace il fatto che sia... Sì, mi piace. Poi comunque mi piace il linguaggio, un po' è un'accusa comunque che si fa un po' alla violenza dei grandi, no? Rispetto a questi piccoli... A questi bambini che sono già grandi e parlano... Non lo so, parlano comunque in un modo che... Mi ricorda un'epoca diversa, perché è un'epoca diversa, ma comunque li trovo sempre molto contemporanei. Ok, è vero. Sì, è estremamente attuale. Sì, estremamente attuale. Nonostante non ci sia magari il coinvolgimento eccessivo della tecnologia, ho più elementi tecnologici che altro, però è vero. È un po' senza tempo. Sì. E prima accennavi al teatro e in apertura di chiacchierata hai parlato della radio. Io ho sempre un po' associato la radio al teatro, perché facendo radio tu sei costretto a far... Comunque immaginare qualcosa, perché le persone tendenzialmente non ti vedono. Adesso in realtà ci sono le radiotelevisioni, quindi ti possono anche vedere, però il grande fascino della radio è che può essere solo ascoltata. E tu paradossalmente, se fai il programma da solo, stai in una stanza e parli da solo. E siccome ho fatto anche diversi anni di teatro, io stesso ho trovato un link tra il teatro e la radio, perché pure a teatro, sì, tu puoi far vedere, però... Alla fine sei... Non è il cinema o la tv. Sei uno che fa delle cose in scena davanti ad altra gente, quindi può essere anche una cosa a tratti che dici... Che sta facendo questa persona? Perché fa... Perché si muove così? Sì, però effettivamente sì. Sì, la questione della radio la trovo forse a tratti ancora più affascinante, perché comunque chi ascolta può immaginare davvero tutto, no? Puoi immaginare, sente questa voce, ma puoi immaginare la faccia, puoi immaginare... È quello, è quello, immaginare il personaggio che sta dietro al microfono. Poi magari incontri la persona e ti eri immaginato tutt'altro, no? Quindi... Mi è successo spesso che alcuni miei amici mi dicessero ma, senti, quel tuo collega, io me lo immagino una persona alta, alta... Magari un metro e venti... Esatto, invece è un bambino. Quindi questa cosa è molto affascinante. Il teatro è qualcosa, perché tu poi hai portato in scena anche un tuo monologo... Io in realtà debutto a marzo, per la prima volta. Ok. Per la prima volta col mio monologo, che è il mio primo lavoro che ho scritto diretto e interpretato. Bellissimo. Quindi c'è la prima volta... Insomma, lo debutto a marzo in Abruzzo. Poi facciamo una piccola tournée in Abruzzo perché la produzione è abruzzese. Ok. E poi speriamo, insomma, di... Dalla nuova stagione di portarlo in giro, sì. E come stai vivendo questo pre-partita? È molto bene, molto emozionata, molto eccitata, molto impaurita, perché poi qualsiasi cosa è Alessandra Masi, perché non c'è, nel senso... Va bene o va male? Certo. La regia non è buona, Alessandra Masi. Il testo non è buono, Alessandra Masi. Però, non lo so, è anche... Mi entusiasma tanto, dai, perché comunque è veramente un prodotto mio, sentitissimo. Tra l'altro, tratta di un rapporto padre-figlia, cioè, sono partita da una base comunque mia. Personale. Sì, sì, sì. E mi hai detto che hai anche cambiato titolo. Sì, perché ero partita con... Non sapevo come chiamarla. Che è difficilissimo dare il nome alle cose... E quindi mi sono detta la mia prima volta da sola. Eh sì. Così. Però, vabbè, ho spostato, insomma, alcuni argomenti, ho voluto, insomma, organizzare questa sorta di... di preparazione a questo viaggio sulla luna, che deve fare un papà. Ok. E c'è questa figlia che in qualche modo aiuta questo padre a prepararsi a questa partenza, ma contestualmente cerca sempre di trattenerlo ancora un po'. Eh certo. Quindi, insomma, una metafora molto carina, no? Riguardo alla morte, quindi all'addio, l'ultimo viaggio, no? E quindi ho pensato luna 57, che, vabbè, è una data di nascita di mio papà, viaggio solo andata. Ma è uno spettacolo molto ironico, in cui si gioca... Il tema è forte, però... Sì, ma si gioca sulla... Cioè, non è una roba di psicodramma, cioè... No, no, c'è una cosa anzi molto anche dolce, tenera, ironica. Ok. E dal 15 marzo sarà in giro? No, la data ancora non la so. Non la sappiamo. La data la saprò a gennaio, però da marzo sicuramente. Da marzo. Poi te lo faccio sapere, magari... Pensa se è il 15 marzo. Ma lo sarà il 15 marzo, Aspetta, vediamo che giorno sarà. Mi sembra che sia un venerdì, il 15 marzo, vediamo un secondo. Speriamo non sia lunedì. È un venerdì. Ah, è un venerdì. Quindi la potresti fare il 15 marzo. Vabbè, ma fantastica. Comunque, anche questo cambio di nome è pure interessante, cioè, hai voluto proprio metterci tanto di tuo. in questo spettacolo e c'è la paura di salire su quel palco e in questi momenti... Adesso noi stiamo registrando a dicembre, l'intervista non uscirà a dicembre, però voglio immaginarmi quando poi si avvicineranno... No, sì, io avrò molta paura. Però, cioè, non lo so, nel senso cercherò di affrontare comunque tutto con ironia e il debutto sarà... Sì, debutto, ma anche un po' una... per me una prova per capire, no? Quindi, secondo me, questo spettacolo spaccherà. Quindi, cioè, nel senso, sono abbastanza tranquilla. Tranquilla no, perché, cioè, sono comunque... Una sana agitazione. Sì, sì, sì. Beh, sarebbe ipocchi da dire rotto a posto, guarda... No, no, sono agitata e forse adesso sono ancora poco agitata. Magari sotto debutto... Ne riparleremo. Ne riparleremo, sì. Penso sicuramente... 15, ma... Farà molto, molto ridere. Si lega la prossima foto, Napoli. Napoli. La città che hai scelto. Tra l'altro, città a cui io sono inevitabilmente legato, perché mia madre è nativa di Napoli. Di dove? Di Corso Vittorio. Ah, proprio Napoli-Napoli. Napoli-Napoli. Ah, io sono nella provincia. Esatto. Tu sei... San Giorgio a Cremano. Sì, e sei nata a massa di somma. Che è un paesino alle falde del Vesuvio. Non del Chilimangiaro. Non del Chilimangiaro, sì, esatto. Poteva essere... Alla falde del Vesuvio, quindi sono nata in mezzo a tutti questi paesi vesuviani, molto coloriti, a 5 chilometri da Napoli, in realtà, quindi veramente vicinissimo. E Napoli, sì, vabbè, è una città che mi richiama sia per lavoro ogni tanto, sia perché, vabbè, comunque vado a trovare poi parenti, per passione. Le radici sono lì. Napoli è una città totale, secondo me, nel bene e nel male, perché ha sfumature negative e sfumature estremamente positive. Questa città ti ha aiutato a sentirti un po' meno sola? Napoli? Sì. Ma quando vivevo a Napoli... In generale, cioè proprio il rapporto, sapere di avere questa città lì, sicuramente. Tornarci, ti aiuta? Sicuramente, anche lavorativamente, comunque ci ho passato dei periodi lunghi e tornare era comunque, cioè c'era sempre una sensazione grande di tornare in famiglia. Eh certo, di calore, quindi, ma anche con le persone e a volte, a volte potrei pensare, cioè i napoletani hanno questo modo di fare che a qualcuno può sembrare un po' invadente, però in realtà è semplicemente tanto amore. Esatto. Quindi c'è... Molta fisicità. Molta fisicità. Ma infatti io sono... Tu perché sei distante, altrimenti io magari... Mi avresti menato. No, sempre, sempre a toccare le persone, sempre così, mentre parlo, capito? va benissimo. Però è vero, poi a seconda delle parti d'Italia in cui ci si sposta, non spesso, non sempre viene capita questa fisicità, che è una fisicità buona. No, sì, non viene capita. Anche noi romani la abbiamo, in realtà. Sì, è vero. Ti sei ritrovata un po' a Roma? Meno però, devo dire meno. Meno di Napoli, sì. È vero. E il tuo rapporto invece con Roma com'è? Bellissimo. Io ormai abito a Roma da 12 anni. Per questo sei romana acquisita. Sì, sì, mi sono trasferita dopo il liceo, quindi ero proprio piccola e ho lavorato in tanti locali per pagarmi l'accademia, quindi io le ho girate tutti, le discoteche. No, Roma mi ha accolta. Mi ha accolta e comunque mi ha dato la possibilità di iniziare a studiare in accademia e quindi da cosa nasce cosa, l'agenzia. Che ha dato un po' in là. Sì, cioè mi ha dato sempre possibilità. Nel senso, io comunque sono partita che non avevo insomma una base economica importante, no? venivo da fuori, un po' da sola, la stanza in affitto, sai, un classico, no? Però io, cioè Roma mi ha dato la possibilità di trovare tanti lavori, quindi io mi sono potuta mantenere, ho potuto studiare, lavoravo, l'accademia e quindi piano piano... Ti sei formata a 360 gradi, penso anche come persona, no? Il fatto di dover lavorare per forza perché ti devi mantenere. Poi comunque mi ha aperto anche la testa, la mente in questo senso. Non mi sono fissata a dire vai, devi fare solo l'accademia, fai, lavori perché devi lavorare, non perché vuoi... Però... Se poteva fa pure altro. Sì, certo, però comunque lavori, ok, godisi questa cosa qui, insomma, cioè fai amicizia con le persone che ci sono, ho dei rapporti bellissimi con delle persone che lavorano nei locali ancora. Quindi non paghi mai l'ingresso. Non pago ingresso, non pago cena, niente. Ah, ma è fantastico. Ah, sì, sì, sì. Allora, in vita c'è cena a me, Eliseo, che prima decantava il fatto che a me piace tantissimo andare a cena fuori in situazioni conviviali proprio per questo, perché si crea quel momento. E certo. Poi noi siamo italiani, quando si mangia, si sta bene. Sì, questa cosa anche che è molto del sud, no? Di stare al tavolo e ti siedi alle 15 e ti alzi alle 23. Esatto. È bello comunque, a me piace tantissimo. Anche a me. Viene criticato da altri che sono dietro i cavalletti, ma vabbè, secondo me è invidia. Hai sentito che suonato un altro campanello? Sì! Questo è un po' meno forte dell'altro. Sì, 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 però... Però si sentiva lo stesso. È bellissimo, mi risponde mia madre con grande amore. Sì, Riccardo, è suonato il campanello. Va bene. L'unica anticipazione che do delle interviste è questo momento che ho chiamato l'hai sparata grossa. Ossia, adesso, in circa 30 secondi, mi dovrai raccontare una storia tua e io dovrò capire se è la verità o se è una finzione. Ok. Sentiamo la storia di Alessandra. Allora, era... No, non dico quanto tempo fa era. Parto così, ok. Camminavo via Le Mazzini, mi guardavo intorno, era un periodo bello, guardavo le vetrine, era il periodo natalizio, c'era tanta gente in giro, entro in un negozio, vedo un maglioncino molto carino che mi piace, vado a pagare, la carta non funziona, vado a controllare il mio saldo, un euro e 33. buono, buono. Questa è la storia. Un euro e 33. Ah. È una storia vera. È una storia vera. Perché con la televisione, il cinema e il teatro si fanno un sacco di soldi. Come se fissi? Ero molto, ero molto giovane, erano i primi... Un euro e 33. Sì, vabbè, ma io, però facevo una vita, comunque, cioè, io, insomma, un po' mani bucate, quello che prendevo, insomma, poi lo spendevo subito, ma ancora non lavoravo come attrice, ero il primo periodo che stavo a Roma. Un euro e 33, mi ricordo. Ti ha preso un colpo, penso, però ti dirò, un euro e 33, un panico iniziale, poi mi sono detta, vabbè, un euro e 33, respira. È più di zero euro. È più di zero euro. Pensiamola così. sta col tonno, ce la fai. Decisamente sì, qualità da rivedere, però, un euro e 33, ti capisco, perché, insomma, capita, noi appunto, gente dello spettacolo, può succedere, io non ho le mali bucate, ho questo vizio di andare a cena fuori, che è un bacione. Dai, ma è bello andare a cena fuori, cioè, ci sta. Adoro, fai tutte le sere? No, magari, no, però, un sacco di volte, sai, magari ho un appuntamento, anche di lavoro, propongo sempre una cena, così unisco l'utile al dilettevole. Però sto fatto, ce lo dobbiamo un po', un po' meno, che altrimenti, quell'euro e 33 scende. Veramente mi ha fatto venire in mente tante cose, sicuramente non dolci, come la cioccolata. La cosa bella di chiedere questi appunto, pezzi di vita dei miei ospiti, è che loro rispondono con grande sincerità. Alessandra mi ha scritto, cioccolato in tutte le sue forme, è bellissima questa dicitura, perché non è la cioccolata calda, o la barretta di cioccolato. No, no, io ho un problema serio. Ottimo. Io credo di avere un serio problema, nel senso, non c'è cosa che mi renda più felice. Del cioccolato? Sì. Ma ti piacciono tutti i tipi di cioccolata? Sì, insomma, se devo dare una preferenza, se dovessi dare una preferenza, sceglierei latte con nocciole. Al latte con nocciole. Sì, sì, però io, ogni giorno, se non ho un pezzettino di cioccolato, a tutti i giorni mangi cioccolato? Un pezzettino perché mi devo, cioè, anche perché sennò, è di abese e tutto. Malanni. Però io potrei tranquillamente mangiare fino, cioè, fino alla morte. Vuoi annegare in una... Sì, 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 non lo so, non so perché, ma la soddisfazione che io trovo quando mangio il cioccolato è... Poi il cioccolato ha anche delle proprietà che agiscono sul nostro cervello, ecco, perché non riesci a farne a meno ed è vero. Questo è proprio un peccato di gola, no? Il cioccolato. Sì, poi sono golosa di base, magari non ho fame di cioccolato, però se lo vedo è proprio un fatto di... Ma non riesci proprio a resistere? No, resisti, meno male che resisto, però se c'è... Adesso in questo periodo ti dirò ne mangio un quadratino fondente, mi sento meno in colpa. Perché il fondente... Fondente al 70%, cioè proprio... Vabbè. Guarda, io volevo indurti in tentazione mettendoti un cioccolato di un lì, però ho detto poi se avresti stata distratta, l'avresti fissato. No, infatti, hai fatto bene. Tu tra l'altro sei anche un soprano? Sì. Prima di salire sul palco, a prescindere... Qualunque palco esso sia, anche prima di registrare, c'è qualcosa che non può mancare a livello culinario? Cioè c'è qualcosa che ti mangi per forza di cose? Prima di andare in scena? Prima. O dopo? Vabbè, mangi dopo? In genere si mangia dopo, anche perché se no prima. Io mangio in continuazione, cioè mangio senza sosta, è sbagliatissimo, non fatelo, e soprattutto non bevete acqua frizzante o Coca-Cola, altrimenti sappiamo come va a finire. Quindi dopo, che cos'è che proprio ti piace trovare... No, dopo c'è proprio, come si chiama, il comfort food, no? Esatto. C'è proprio le schifezze, cioè dopo lo spettacolo voglio il panino. no, la merendina no, però tipo il panino, l'hamburger, le patatine fritte. No, perché lui, cioè, mi prendono in giro spesso e dicono che io mi nascondo le merendine. Ah, davvero? Ma non è vero. No, perché si è girata proprio come se c' fosse un rappresentante di note, Marche di Merendine, se volete promuovere questo podcast, fatelo, chiunque voi siate, fatelo in continuazione. E quindi, un bel panino con le patatine fritte, con le salse, capito? Quelle cose proprio... E proprio gli sbrodoloni. Sì, sì, il sbrodolone, proprio quello che fa lo zozzone, capito? Lo zozzone, bello. Beh, mi piace questo passaggio da lo stare in scena, concentrarsi... Certo, ma quello è, quello è, noi siamo tante cose, no? E giustamente, altrimenti sì. Invece prima un pochino di zenzero per la voce, un pochino di zenzero, proprio fresco. No, io prendo un pettettino di zenzero che brucia tantissimo, però ti fa uscire il bocione. Così, è dato bravo. Sì. E poi tu parli così tutto il tempo. Sì, esatto. È molto bello. Allora, noi siamo in chiusura di questa bellissima chiacchierata. Intanto, grazie Alessandra per aver accettato il mio invito a venire in questa gabbia di pazzi. Grazie a te Riccardo per avermi invitato. E volevo chiudere con un gioco, diciamo, un'attività molto semplice, però abbiamo il tempo limitato, quindi io metterò un cronometro da qua, se si gira, eccolo qua, e ti farò una serie di domande molto rapide, molto veloci, molto semplice. Tu devi rispondere una delle due opzioni, sono cose che non riguardano la politica. Salvo che tu non voglia dire la tua. No, no, ti ringrazio. No. Pronta? Sì. Ansia. Sì, ma doveva fare? Hai capito com'è qua? Vai. Mare o montagna? Mare. Teatro o cinema? Cinema. Nella pizza, cornicione ripieno o cornicione vuoto? Cornicione ripieno. Totò, Massimo Troisi? Massimo Troisi. Le tre C del caffè, quali sono? Caldo, cocente, cazzo gomma coscia. Ah, cazzo gomma coscia. Gomma cazzo coscia. Vai, vai, vai. I limoni di Procida o i faraglioni di Capri? I limoni di Procida. Natale o feragosto? Natale. Con quale star di Hollywood andresti a prendere un caffè? Brad Pitt. Con quale star italiana andresti a cena? Luca Marinelli. Luca Marinelli. Vino bianco o vino rosso? Vino bianco. Dimmi, tre volte 33 tigri contro 3 tigri? 33 tigri contro... Ciao! L'ultima ci siamo quasi. Mi devi leggere questo proverbio. È un proverbio pugliese. Pugliese? Me lo devi leggere. Va bene, vediamo. Vai. Qual è? Qual è? C'è scritto... Bevi tu lumieru cautucate passatus. No? Più o meno? È così? Che vuol dire bevete il vino caldo che fa passare la tosse? Hai visto? Quindi altro che zenzero se avete la tosse e bevete il vino caldo non ne bevete troppo se dovete guidare non lo bevete proprio. Andiamo un po' di messaggi. Fanno molto bene. Alessandra, grazie per essere stata qua con me. Spero che ti sia piaciuto tutto questo momento. Grazie. Molto carino. Veramente molto carino. Hai superato perfettamente la prova. Eh sì, tranne 33 e 33 mi sono un po' inceppata. Un euro e 33. Forse se dicevamo... Esatto. Sarebbe andata meglio. Il tuo subconscio è ritornato questo un euro e 33. Ringraziamo ovviamente Eliseo alle macchine, Federico nonché Federico agli audio, a quello che sentite. Ringraziamo Radio Caus Italy che ci ospita. vi è Eugenio Torelli Violi e 17. Grazie a tutti voi per aver visto o ascoltato fate come volete questo podcast che si chiama Dillo a Zianna. Altro podcast semiserio. Ci vediamo alla prossima puntata. Alessandra ce ne va a mangiare un cioccolatino. Ciao. Ciao.